Beh, lega notari, bentornati. Oggi siamo qui con la review dei Path to Glory e con anche gli icon... Sì, icon swap, vabbè, sì, icon swap, a fine icon swap, workup, swap, ci sta un po' de tutto dentro. Anche perché hanno inserito le icone nuove, faccio vedere le icone della workup, tutte 35 se volete far il pick, insomma un po' de cose. Allora, prima cosa, come si uppano i Path to Glory? Lancio la campagna, si qualificano, passano il gironne più uno, si qualificano e vincono gli ottavi più uno, poi una volta che vincono i quarti è 5 di piede debole, se hai già 5 di piede debole prendi un altro più uno, se vinci la semifinale è un 5 di skill e arrivi poi effettivamente a prendere il... se hai già 5 di skill, come ad esempio dovrebbe uscire in cuncu settimana prossima, prendi un altro più uno sull'overall e poi prendi 3 nuovi trades e un altro più uno se vinci anche la finale. Insomma, diciamo che gli upgrade non sono niente male e soprattutto le carte che hanno fatto uscire ieri Uppate promettono bene. Ma ok, si sta a vedere o viedo che comunque sia, non so quanto panno in fronto a Costa Rica, nel gruppo con Germania, Giappone e Spagna. Però sicuramente altre carte, cioè prendi tipo Vinicius che arriva insieme a finale e diventano 5-5, cazzo è tanta roba, Uppato. Poi abbiamo Plata dell'Equador, pure questo insomma, queste sono tutte carte che stanno praticamente a scarto, pure questo sta a 12.000 crediti. 4-3, vabbè ma questo da una liga, ma che c'è dovrebbe farmi capire che Dembele base sta a 8.000 crediti. Questo pure piacere. Anche perché è Ecuador, Olanda, Qatar e Senegal, ma direi che secondo me potremmo stare così. Già carte che iniziano ad essere un minimo interessanti che potrebbero prendere un'app, c'è Stadelanei, quello sicuramente, nel girone con Francia, Tunisia e Australia dovrebbero passarlo. Già questo, magari ti fa avanti un paio di turni, diventa magari 88, ti prende 5 dei piedi debole, può essere pure una carta carina, inizia non è bruttissimo. L'unica cosa, magari si è un po' l'inchallo, però metti 10 o metti a centrocampo a 2, può essere una carta interessante. Poi c'ho un po' moding obiettivi, ti posso dire, non è così brutto. Certo, 4-3, però alla fine te lo regalano. Non è malaccio come carta, 75-95, lenti, sì. Ma te dirò, se potrebbe provare. Girone del Camerun, non semplicissimo, però a fine è un 86, poi se SUV diventa per 0-5 dei debole, tosta. Però potrebbe essere una di quelle carte comunque che spingono. Con Brasile, Serbia e Svizzera. Bel giro. Araugo, uscita il mostro praticamente. Uruguay stava nel girone con Portogallo, Corea del Sud e Ghana, potrebbero pure passarlo. Che ci abbiamo qua? Un bella carta. Abba, Araugo, regà, il difensore più forte del gioco. Certo, ora come ora, vabbè, Araugo lo vai a pagare qualcosa come 300.000 crediti, gli daresti mai nella vita. Ma anche perché, boh, onesto, quanto c'ha più del base? Quanto è meglio del base? Certo, 4-3 velocità, 9-3 dribbling. 2-3 difesa, 2-3 fisico, 6-3 passaggio. Una carta, è una bella carta, per carità. Però, sicuramente, 300.000. Ora come ora mi c'è Biondai. Allora, se vediamo. Ah, beh, però, sì, che poi, boh, 2-3 app dovrebbe diventare interessante. Tanto è pure il base è un fenomeno, quindi, poi. Costa 900 crediti. Poi è uscito Bergius, SBC. Ma dell'Olanda, questo si potrebbe pure fare. Alla fine la carta non è brutta, è completo. Certo, è un 4-3, per carità. Però questo pure sembra simpatico. Costa poi una rosa 85, non tantissimo. Pagina successiva, andiamo su quelli forti. Cioè abbiamo Carvalle per la Spagna. Poi, ovviamente, dovrà uscire il Team 2 con tutte le altre nazioni che non l'hanno preso. Adesso c'è Bilinkovic, Savic, Varelo Zano, Kim. Kunku. Insomma, se si prospetta un bel Team 2. Poi che ci abbiamo? Carvalle, 3-3, 170.000. Ma stava a 70.000 stava stamattina. Cioè, stamattina, ieri sera ai 7. I coglioni. Però pure questo, sì, non mi dice niente. Certo, a destra, tersini da lì, che non è che ci sono questi fenomeni. Ma 170, da quel caso. Certo, Carvalle poi arriva bello in fondo. Gnabry, questo è carino, costa 80.000 crediti. È veramente simpatico. Cioè, c'è una bella carta. Tocca la vedete poi in game. L'anno scorso dove avevo provato una versione speciale, era tutto un patchato, si muoveva male. Però potrebbe essere una carta molto interessante. Milik sta praticamente a scarto. Gnabry sta sugli 80, Milik sta sugli 17. Boh, a Polonia dovesse passare al girone. Questo potrebbe essere interessante anche come investimento. Diventano 88, sai. Ovviamente è sempre una scommessa. Però sta a prezzo dove ero io. 5-6 mi sono acciucciati. So poi, però mi hanno nato, non ne ho assegnati per aprirmi i pacchi oggi in live. Grealish, Grealish, Grealish. A-S-S-C-O-C. Quanto costa? 140. Quanto costerà Grealish? 123. Boh, mi hanno sempre fatto cacà a Grealish. Ve posso dire? Sì, ok, Inghilterra potrebbe arrivare in fondo. Bella per lui. Quanto mi riguarda Griezmann. 670.000 crediti. Discorso da carta live paghia pure il fatto che è dalla Francia, quindi... Una dei favoriti. Complimenti. Eh, il problema è che parte il work rate, gli lasci 670.000 crediti. ATT, AD, AD. Non lo so, certo. Mi dici Griezmann 5591, ti dico che cazzo è bello. Però, non so. De Jong, De Jong è una bella mina. Cioè, ok, l'Olanda magari è arrivato tipo a 90. Ma lui è proprio forte. Cioè, quello di quest'anno è assurdo sto De Jong. Magari pure grazie al dribbling lo fa in un certo modo in campo. Costa mezzo milione. Infatti, niente ne manco quello. Però, no, sono tutte carte molto interessanti. Cioè, nel senso... Poi io per quelli che preferisco, onestamente, sono Gnabry e Romelu Lukaku. Per un discorso qualità-prezzo. E... Pure De Lani. Carte che proverei che te costano veramente poco. Le altre sì, so Baby Nicious, è bellissimo. Però so 2 milioni e 2. Su Next Gen sta un palato, un mezzo al campo. Su World, sì, non è male. Però, insomma, 2 milioni e 2. Invece compro Ginola, che è un po' più forte. Non lo so. È una bella carta. Nulla tipo, è Brasile. Quindi questo... Questo certo. Nel momento in cui mi dicevo, il Brasile è arrivato a un finale. Ti dico, beh, veni su 5-5-90. 91 doverolta. Ti dico, beh. Ci farei un pensierino. Anche perché ho 88 de finalizzazione, quello sto qui. E poi, c'abbiamo Romelu Lukaku. Io uno me lo so comprato a 60 mila, sta a 70. Simpatio. Belgio, magari ti passa un paio di giorni, potrebbe dire. Sogno Davide e Lukaku 5 de skill. Però questo su Next potrebbe essere una roba senza senso. KK Kalidu Kulibali. Bella per lui. 380 mila crediti. Bella carta, sicuramente. Grande, grande carta. E poi Bernardo Silva. Costo 600 mila. Portogallo. Ma pure questo, dove stanno avanti a Portogallo, 5-5 de Bernardo, potrebbe essere molto interessante. Anche a livello dei link che c'è a disposizione. Ma le carte in sé non sono un malaccio. Poi ovviamente c'è tutto il discorso. Aspetta, ve lo fa vedere una cosa. Che tutte le carte che vedete, Igo, che mi avete chiesto, Igo, Neiro, carte evento, non scadono. Non ve le levano dall'account. L'unica carta che vi vengono tolte dall'account sono queste qui, che servono solo per fare degli obiettivi, per gli swap, che ora andiamo a vedere. Giocatore che scade, ad esempio, tra 53 giorni e 7 ore. E poi vi danno un reward a seconda di quante carte avete nel club. Non le potete utilizzare nelle SBC. E a livello dei link sono un po' particolari. Allora, scambi. Iniziamo dal basso. C'è stata una valanga dei giocatori. Lì è un po' simpatia, secondo me, perché le carte non sono male e costano pure poco, però ovviamente... Cioè, tipo, P.A.S. Diatta, Ioseu Padiatta, boh, come vi pare. Anticazzo ne hanno messi. Allora, oh, eh, due, due, due. Eh, ok. Ci abbiamo. Oh, questo del Catarra. Tipo questo, ma che c'è dovresti fa? Sì, lenti, ok, bella per lui. Talbi, buono, Calvo, ottimo. Fortissimo. Asciambrani pure. Questo giusto calling che ha lo wirean. Dicevo, butto lì, magari se comporta bene. Tocaglie. Sì, vi faccio vedere, ma comunque è tutta roba che già qui, almeno c'è uno dalla Serie A, dici, vabbè, faccia full Serie A con questo, anche se 3-3, medio, medio. Un Kulutolo, un altro terzino sinistro dell'MLS, con il dribbling di pippo, questo è un DC. DC con 93 di velocità. E questo potrebbe essere simpatico. Il grande Reggie Cannon, TD, DC, pure questo DC, ha messo il fisico di Paperino, AIDU, mezzo potenziato, vabbè, hanno fatto uscire un'openazione, però il 20 giocatore di Rari 82+, che non è manco malissimo. Il grande di Atta, 4-4. Questi non si uppano, eh, non so, Paftulo, non si uppa di Atta. Link Hamjun, penso se si è capito che so carte, che tepi in oro, è la stessa identica cosa. Berezinski, sa fa TD, e basta. Munir, Shakiri, 5 de skill, vabbè, questo potrebbe essere simpatico, esotico. Enner Valencia, vina, vina e, beh, questo per fare la full Roma, mi sa che muovi, se chi se ne frega, più tiro da cafu, vabbè. Guardato, Kramaric, ma già Kramaric, sì, Kostic è carino, costa 6 o 7, quanto costa? 6, già Kostic non è brutto, 3-3, però può essere in esterno completo, dentro 5-2, per ditte, pure switchato o butti terzino, secondo me, potrebbe essere carino. Kristensen, decente che è del Barça, Correa c'ha una buona carta, in realtà, Correa è tipo, tipo, Kaka Baby, senza 5-2 skill, e continuo migliore, all'incirca stiamo lì come tipo, non è brutto, pesa 8 swap, Danilo Pereira, pure questo, beh, c'ha lenti, su Next potrebbe essere interessante, Brandt, che te sei in culo, Morata, anche pure, mezzo simpatico, non un grande fan, però insomma, due carte leggerino, quest'anni voglio che pesano 100 kg, centrali, te si portano via, Mount, Azzerda, che ha 4-4, che, pacco 20 giocatori, 84 o più, questo, vabbè, questo è da prendere, questo sarebbe da prendere, almeno uno, tu lo metti da parte, 3 pacchetti, 20-84 o più, pure, questo hanno fatto, lo sconto, Coman, ecco, già Coman, si sta avvicinando a carte molto interessanti, Coman, Fabinho pure, una carta che potrebbe di la sua, anche perché, moco 78 velocità, il discorso che c'ha lenti, il giocatore tecnico, questo potrebbe menà, queste qua sono, quelli che abbiamo visto prima, un pick a 5, eh, i 3 pacchi sono interessanti, comunque, pure vero che c'è di trovare qualcosa, però, non so male, eroi FIFA World Cup, che sono quelli Marvel, che avete visto, che sono usciti durante tutto, tutto l'anno, cioè tutto l'anno, che sono usciti, che hanno annunciato, inizio anno, proprio tipo agosto, sono i primi che hanno fatto vedere, poi, adesso, in realtà, sono usciti ieri, alle 19, neanche tutti nei pacchi, ma comunque, li comprende tutti, ovviamente il pick, poi c'è il pendolo, ma, tipo, fino a arrivare dai 2 ai 10, 100 carte, poi hanno messo quelli alti, due opzioni, Cafu, hanno fatto la modalità mondiale, ora vi faccio vedere pure, tutte le carte, così vi fate un'idea, se fare il pick o meno, io non so tanto per il pick, perché debuste ce ne sanno, anche se ci sono tanti by top, pendolino, 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 pendolino bello, 4-4, che hanno uppato il piede debole, però rimane sempre 47, le finalizzazioni, non capisco per quale motivo, quando Vina c'ha 70, e poi abbiamo l'icona, World Cup, ok, l'icona World Cup, vi faccio vedere, sono tutte queste qui, sono 35, ok, e c'è sa Pelezzi, sono versioni più o meno, tra la mid e la prime, del giocatore, con la dinamica molto simpatica, ora vi riscorro, vi faccio vedere tutti quanti, Budraghenio avrà 4 di skill, Drogba, Crespo, 5 di piede debole, e tu anche, c'è Cannavaro, Stagov è 4-4, Drogba è 5-4, e poi abbiamo Blanc, Roberto, Carlos, Shevac è 4-4, Close è 4-4, Vieira, Vieira, Svainstager, Van Persi, Linegar, Crespo, Petitsugger, Hernandez e Zambrotta, allora quindi questi sono tutti quelli a disposizione, diciamo che un picca a 3, te potrebbero uscire benissimo, Mor, Casi, e Puyol, e 35, su app, mi sentirei un pochettino preso per il culo, ritorniamo a noi, a 40, c'è sta, il mostro, c'è sta, veramente il mostro, c'è sta sto Vieira, che è clamoroso, Vieira quest'anno con lenti, potrebbe essere la carta da vita, allora, io sono sincero, penso che Puyol, mi vierà, tocca a fase 40, su app, però penso che Puyol, mi vierà, e Vieira è Vina, anche se ci avrebbe senso, via Vierà è un 10 e l'84 o più, però, secondo me è una carta che giochi fine ai toz questa, ma pure che la vai a buttare difensore centrale, magari switchi, esce qualcosa con i bird, escono carte interessanti, capito, però rimane tutto un discorso, dove sicuramente riusci ad utilizzarlo fino a quando te pare, e poi davanti alla difesa avvierà tanto ogni anno, è il più forte, e lo prendi gratis, c'è una carta da 2 milioni che ti stanno andando, è una carta da 2 milioni gratis, rispetto magari a queste che sono delle buone carte, ma niente di eccezionale, queste si te ce le fai i builder, te le apri i toti, ma se non te esci i toti, io l'anno scorso sono aperti in avalanga, avete visto pure su youtube, apriamo 30 pacchi, 20 e 84 o più, ho trovato niente, quindi, boh, cioè, dei giocatori proprio che dici pazzi, non ce ne stanno, sia a Zerb e discreto, c'è Saffa Bigno che è ok, ma poi, se sono fermati, neanche ci hanno messo un giocatore bello, a 30 swap a fianco a Cafu, che dici, cazzo, questo va fatto, sono rimasti un po' così, poca roba per quanto mi riguarda, quindi, io so per lui che effettivamente fa differenza, cioè, tra tutte le carte, ti fa, ma cazzo, ma stanno andare a virare a sto punto dell'anno, per me non ci stanno tante scelte, è questo più l'altro pacco, oppure te pico 10 swap a giocatori, proprio in tanti che più a merpa come per ovvina, così va a full Roma per fare se tu risate, però, non è che ci stanno sti cartoni assurdi, vi era una carta di ripeto da un milione, un milione e mezzo, cioè, pur andando a vedere il valore del giocatore che te va a sbloccare, comunque ragazzi, ci vi do un bacione, ci vediamo come state su Twitch, e alle 13.30 su YouTube, che ci sta il pacco con Heroes Marvel, ciao.